Ciao ragazzi sono Benve e benvenuti in questa nuova live reaction, quest'oggi siamo tornati qui con la reazione dall'Allianz Stadium a Juventus Roma Prima di iniziare il video ragazzi mi raccomando lasciate un mi piace in questo istante e iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto Come al solito mi invito anche ad andare a scaricare OneFootball, primo link in descrizione, applicazione migliore per quanto riguarda il calcio Mi raccomando scaricatela, detto questo io vi lascio alla reazione dall'Allianz Stadium, sempre forza Juventus e buona visione Grazie a tutti Ciao a tutti e benvenuti in pochi minuti al fisco di inizio, vediamo insieme i protagonisti del match Comunichiamo le formazioni delle squadre Merde! Allenatore Gianfrancesco Merde! Numero 1 a pausa Merde! Juventus! Merde! Allenatore Massimiliano Merde! Lui numero 1 Wojciech Chessi Numero 5 Milo Lepper Merde! Numero 7 Cristiano Nero 7 Numero 10 Puro Nero 7 Lui numero 1 Lui numero 1 Credi su una sciarpe Fuori a voce E ancora una volta Fino alla fine Forza Juventus! Lui numero 1 Simili a te Eroi Abbiamo il cuore E spese Portaci dove vuoi Verso le tue conquiste Lui numero 1 Lui numero 1 Lui numero 1 Sarà la storia di tutti noi Solo un piccolo e un uomo Quale in te la scuola che sei Juventus! Lui numero 1 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 VATERO! 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 Vieni! Questo è scarso! Noooo! Cosa fai? Non ho preparato! Non ho mai preparato! VATERO! VATERO! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!